Musica Le donne di Zagaria gestivano il clan, operazione della dia di Napoli, quattro arresti, manette, la sorella e le cognate del boss dei casalesi. Si occupavano di pagare gli stipendi agli affiliati ma gestivano anche il patrimonio della cosca. L'omicidio di contrada assassino in trappola, l'omicida di Vietri aveva un complice, si tratta di un trentenne di Fisciano che lo avrebbe aiutato a bruciare e nascondere il cadavere di Tornatore. Le indagini continuano, si cerca un altro uomo. Caso Pagano, nuovi sviluppi, cause civili pilotate, l'inchiesta di Salerno coinvolge anche il procuratore della Corte dei Conti. Indagati anche altri due magistrati, nelle intercettazioni compare anche Ciriaco De Mita che non è indagato. Don Riboldi bomba nel giorno dell'addio. Nordinio è stato fatto esplodere a poca distanza dal Duomo contro una ditta che si occupa di onoranze funebri. È la sfida dei clan ad Acerra nel giorno dei funerali del Vescovo che combatteva la Camurra. Veleni e Bagnoli bonifica da rifare, le analisi confermano i terreni sono ancora inquinati. Il risanamento dovrà essere affettuato su tutta l'area e quindi anche sulla parte che è stata già oggetto dei precedenti interventi. Dugenta, decapitato dal treno in corsa, sarà l'autopsia ai rilievi della Polizia Ferroviaria ad identificare la vittima dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel Sagno. Forse è un extra comunitario travolto dal treno Freccia d'Argento, Lecce-Roma. Rieccoci con l'informazione di 696 TV, quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli. In apertura cronaca nera, ieri l'arresto delle donne del clan di Troia a San Giorgio a Cremano che gestivano gli affari del clan. Oggi invece sono state arrestate le donne dei casalesi che gestivano i soldi del cartello per conto dei compagni in carcere. Il tutto tra lusso e stipendi d'oro. Sentiamo. Da Parma fino a Caserta e nel piccolo centro di Casa Pesena, il patrimonio enorme accumulato dal boss Michele Zagaria era nelle mani delle mogli dei fratelli del capoclan dei casalesi. Francesca Linetti, la moglie di uno dei fratelli di Zagaria Pasquale, percepiva circa 3.500 euro al mese, ma lo stipendio poteva scendere anche a 1.500 euro. E non mancavano le scaramucce tra le cognate e liti per accaparrarsi magari lo stipendio più alto. Questa mattina la DIA di Napoli e del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti della sorella del camorrista Beatrice Zagaria e di Francesca Linetti, appunto residente di Mila Romagna ma domiciliata a Casa Pesena, moglie di Pasquale Zagaria, fratello di Michele ed anche egli detenuto. Pasquale ritenuto il braccio imprenditoriale del clan capace di investire anche al Nord Italia. Agli arresti anche Tiziana Piccolo, consorte di Carmine Zagaria, un altro fratello di Michele, l'unico uscito dal carcere di recente e attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale a San Marcellino. Poi manette anche Patrizia Martino, moglie di Antonio Zagaria. Le donne sono gravamente indiziate del diritto di ricettazione, aggravato dall'avere ottenuto beni perché destinatarie di risorse dell'organizzazione riservate al clan, riservate al pagamento dello stipendio mensile degli affiliati. Le indagini dirette dalla DDA sono basate su accertamenti patrimoniali, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori. E adesso da Caserta ci spostiamo a Napoli, ancora problemi con la linea 1 della metro, stop ai treni diretti a piazza Garibaldi e al centro città resta letteralmente isolato. Dalle 9 alle 11 la circolazione da Piscinola è stata limitata a piazza Dante, chiuse le stazioni di municipio Toledo, Università e Garibaldi. Le banchine stracolme di passeggeri non hanno consentito l'accesso ai treni, inoltre il malore di un viaggiatore a Salvatore Rosa ha rallentato ancora di più i tempi di circolazione in attesa dei soccorsi e la situazione si è fatta davvero insostenibile. Come se non bastasse è arrivato anche il guasto di un treno ANM per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ha ritenuto di limitare la circolazione. E' la terza volta che succede nel giro di 10 giorni ed è scoppiato letteralmente il caos, a peggiorare ulteriormente le cose il maltempo e il traffico prenatalizio che hanno mandato letteralmente in tilt tutto il centro di Napoli città. E adesso da Napoli ci spostiamo ad Avellino, all'alba un arresto per l'omicidio di Michele Tornatore, il 56enne trovato carbonizzato, ucciso in un'auto nelle campagne di Contrada. Era il 7 aprile del 2017, i particolari del servizio di Paola Iandolo. C'è una svolta per l'omicidio di Michele Tornatore, un altro arresto. Si tratta di un trentenne di Fisciano legato al clan genovese e accusato di aver distrutto il cadavere del 54enne di Contrada il 12 aprile scorso. Un nuovo nome, quello del trentenne, che si aggiunge agli altri indagati a quello di Francesco Vietri, già in carcere, proprietario del capannone di Montoro, dove fu nascosto il corpo di Tornatore. I carabinieri sono arrivati a lui grazie all'intercettazione e alle indagini dirette dal comandante dei carabinieri di Avellino, Massimo Cagnazzo. Noi dobbiamo accertare la verità in modo completo. Come si vede sono passati dei mesi dal violento e ferrato episodio dirittuoso, sono stati individuati i responsabili. Un altro libro di tassello si è aggiunto, che è quello ovviamente dell'individuazione di colui il quale ha provveduto ovviamente a distruggere o a tentare di distruggere il cadavere mediante l'incendio avvenuto dall'autovettura. Quindi sono attività delicate che proseguono nel tempo fino a fare piena luce, consentire di fare piena luce su un episodio gravissimo. Intanto le indagini continuano. Oltre al trentenne di Fisciano ci sarebbe anche un altro uomo ancora a piede libero, che avrebbe aiutato a caricare il corpo di Tornatore nell'auto per poi bruciarlo. Crolla il solaio, c'è voluto un poco lavoro da parte dei vigili del fuoco per recuperare due operai andati appunto finiti in un pozzo artesiano inghiottiti da una voragine che si è aperta sotto i loro piedi mentre effettuavano lavori di manutenzione. E' accaduto ieri in via Villari nel rione Sanità Napoli al lavoro tre squadre dei caschi rossi, tra cui il salvataggio di un alpino fluviale che hanno estratto vivi i due operai. I malcapitati sono stati ricoverati comunque all'ospedale Cardarelli e è andata invece peggio ad un altro operaio di Napoli che è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. Il tutto è accaduto in via Salita Tarsia, in centro città, sempre a Napoli. L'uomo stava lavorando su un terrazzo al quarto piano quando è precipitato al suolo, impattando mortalmente su una vettura. E adesso andiamo a Salerno. Una rete di complicità e sentenze pilotate è quella che emerge nell'ordinanza del GIP di Napoli che ha portato all'arresto del giudice Mario Pagano. Sentiamo. Una rete sempre più fitta all'interno della quale finiscono indagate eccellenti e personaggi coinvolti nel presunto giro di sentenze pilotate. E' il quadro a tinte fosche che emerge dalle carte dell'ordinanza del GIP di Napoli, Luisa Toscano, che ha portato, fra l'altro, all'arresto del giudice savernitano Mario Pagano. Per lui le accuse sono di corruzione, truffa e associazione a delinquere. Ma dalle carte giudiziarie, oltre alla rete di imprenditori amici, fra cui anche il fratello sindaco di Rocca Piemonte, indagato a piede libero, risultano coinvolti altri magistrati. Su tutti il procuratore regionale della Corte dei Conti, Michele Oricchio, all'epoca dei fatti contestati, presidente della Commissione Tributaria di Salerno. E dunque ha stretto contatto con Pagano, così come il presidente della sezione civile del Tribunale salernitano, Nicola De Marco. Nel registro degli indagati, altri due magistrati, il giudice fallimentare Maria Elena Del Forno, alla quale si contesta l'abuso d'ufficio, ed il PM di Nocere Inferiore Roberto Lenza, che dovrà rispondere di rivelazione del segreto d'ufficio. Una vera e propria bufera, dunque, quella che si abbatte sulla magistratura savernitana regionale. Per il GIP, tra Pagano e altri colleghi togati, esisterebbe una consuetudine di rapporti caratterizzati dal reciproco aiuto, come si legge nel provvedimento che lo ha portato ai domiciliari. Insomma, sentenze aggiustate e cause pilotate. Non solo magistrati, comunque, nelle intercettazioni trascritte emerge anche la figura dell'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, che telefona a Pagano il 20 febbraio 2016, chiedendogli di ricevere un amico per una semplice cortesia. De Mita non è indagato, ma il GIP sottolinea comunque quello che definisce il significato oscuro dell'espressione a telefono. Una sfida in piena regola, una bomba a carta. Questa notte ha devastato l'ingresso della ditta di onoranza e funebre Pacilio di Acerra, che si occuperà del trasporto del feretro per i funerali di Don Riboldi, il vescovo Anticamorra. Un attentato che ha squassato la notte acerrana, compiuto a poca distanza dal Duomo, in cui si trovano le spoglie del prelato anticlan. Don Riboldi ha chiesto, fra le ultime volontà, di essere seppellito proprio da Acerra, nella città e nella regione, dove ha speso molto del suo impegno di pastore, delle anime, nel contrasto alla lotta della criminalità organizzata. Per la ditta Pacilio, e il nono attentato subito in due anni, anche se i titolari hanno sempre smentito di aver ricevuto eventuali richieste di pizzo. Ieri il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, aveva parlato di Don Riboldi come di un profeta dei tempi di oggi, ricordando l'impegno Anticamorra nel segno del Vangelo. Ricordate appunto la marcia con migliaia di giovani nella città di Ottaviano, la città del capo della NOCO, Raffaele Cutolo, una marcia che avvenne appunto negli anni Ottanta. Cambiamo argomento, Bagnoli, le analisi confermano, bonifica da rifare, anche l'ISPRA è sicuro. Terreni inquinati dei vincenti, convoca la cabina di regia per il 21 dicembre, ci racconta tutto Rossella Strianese. Le operazioni di bonifica del sito di Bagnoli Coroio dovranno effettuarsi su tutta l'area e quindi anche sulla parte che è stata già oggetto dei precedenti interventi. In Vitalia, il soggetto attuatore per la rigenerazione di Bagnoli rivede le analisi di rischio sull'inquinamento dei suoli dell'area Exital Sider, analisi condotte dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, che ci dicono, in sostanza, che i terreni di Bagnoli sono ancora pesantemente inquinati. I ricercatori hanno trovato cadmio, piombo, idrocarburi, arsenico e altro, ben oltre le soglie di tollerabilità stabilite dalle leggi molto rigide. Dunque la bonifica non è stata mai effettuata o chi l'ha fatta ha sbagliato tutto. Risultato? Si sarebbero sprecati 180 milioni di euro. Ma questo lo stabilirà il Tribunale, dove è in corso un lungo processo e la sentenza è attesa entro la fine dell'anno, con richieste molto pesanti da parte della pubblica accusa. Nel frattempo si pensa a pianificare il lavoro di risanamento, per cui il Governo ha stanziato già altri 270 milioni, progetto voluto fortemente dall'esecutivo di Matteo Renzi, sul quale stanno lavorando rispettivamente il commissario Salvo Nastassi e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, con la partecipazione alla pari del Comune e della Regione. I risultati dello studio saranno presentati nella cabina di regia, convocata per il 21 dicembre e presieduta dal Ministro dei Vincenti. E ci sarà il via libera definitivo a tutte le gare per la bonifica già espletate. Se non ci saranno intoppi, in primavera apriranno anche i cantieri. Saranno i rilievi e gli accertamenti della Polizia Ferroviaria come l'autopsia a dover chiarire qual è l'identità dell'uomo morto decapitato ieri sui binari sulla tratta Lecce-Roma tra i comuni di Lugenta e Sant'Agata dei Goti. Servirà l'esame del DNA prelevato al pari dalle impronte digitali per ricostruire l'identità del giovane di colore travolto ed ucciso dal treno Freccia-Argento nella tarda serata di ieri lungo la linea ferroviaria Benevento-Caserta poco dopo della stazione di Frasso-Telesino e Dugenta tra le valli Telesina e Caudina. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer intervenuti sul posto al pari dei vigili del fuoco di Teleseterme, il giovane pare fosse in compagnia di un altro extracomunitario Avevano sbagliato treno ed erano scesi proprio alla stazione di Dugenta da un convoglio nel tardo pomeriggio Poi evidentemente si erano incamminati lungo i binari e dopo circa un'ora la tragedia Il treno ad alta velocità ha colpito in pieno il giovane che è stato addirittura decapitato Sul musetto delle TR chiari segni dell'impatto La vetroresina della carrozzeria si è infatti spaccata in più punti Difficili e delicate le operazioni per la ricomposizione della salma Sul luogo dell'incidente è anche intervenuta la protezione civile che ha consegnato i circa 200 passeggeri del convoglio acque ed altri generi di conforto Solo dopo alcune ore la linea ferroviare è stata riaperta Ora resterà solo da effettuare l'identificazione nella speranza che quel corpo possa essere sepolto con un nome e magari riaffidato ai familiari Nei prossimi giorni l'autopsia all'ospedale Rummo di Benevento E adesso spostiamoci ad Avellino Città è ancora giallo fitto sulla morte del dentista Ugo Masucci trovato senza vita in casa sua in una villa con trada archi in una pozza di sangue omicidio o suicidio il comandante colonnello Cagnozzi non si sbilancia ma dice siamo vicini alla soluzione del caso Ancora nulla bisognerà ancora attendere per poter dire se è stato un omicidio o un suicidio il caso della morte del dentista Ugo Masucci è ancora aperto nemmeno l'autopsia ha chiarito le cause del decesso del dottore ritrovato in una pozza di sangue lunedì mattina nella sua abitazione è presto per poter arrivare ad una svolta così ha detto il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Cagnazzo non possiamo dare certezza mancheremo di professionalità noi stiamo valutando è ovvio che stiamo aspettando tutto l'esito di una serie di accertamenti scientifici dobbiamo escludere non solo le due ipotesi quindi c'è un ampio inventario di ipotesi e prima ovviamente in questo contesto ovviamente stanno cercando tutti ulteriori eventi per poter divenire a una individuazione certa di quello che è stato l'episodio perché se noi non capiamo l'orario la dinamica e la motivazione non possiamo dare ovviamente un primo contorno di un volto di autore o di un autore o di una vicenda se non aspettiamo prima gli accertamenti scientifici professionalmente stiamo cercando di dare una risposta in questo senso con gli accertamenti scientifici con l'autopsia con tutti quelli che sono ovviamente gli strumenti in possesso degli investigatori e in questo caso che possono sorgere anche durante le investigazioni e quindi di attendere per poter poi fare una valutazione e cresce anche l'allarme in città proprio la scorsa una notte nella stessa zona dove abitava il dentista con trada archi sono stati registrati altri due tentativi di furto cambiamo argomento parte la campagna di ascolto del sindaco di Salerno Napoli che va nei quartieri e ascolta le istanze delle persone sentiamo una campagna di ascolto ma anche di informazione il comune di Salerno si prepara da domani ad incontrare i cittadini delle periferie un tour che vedrà protagonista il sindaco Enzo Napoli che ha scelto Fratte come prima tappa un'occasione ha ribadito la fascia tricolore per raccogliere le istanze dei residenti con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi spesso è lontano dai riflettori e dai servizi del centro città è una serie di incontri che teremo quartiere per quartiere per raccontare il piano delle periferie ma soprattutto per ascoltare sono delle iniziative naturalmente di informazione ma eminentemente di ascolto lo facciamo per il piano delle periferie ma lo allargheremo ad altre prerogative ad altri discontri perché il nostro interesse è avere la percezione concreta di come viene vissuta la città di quali sono le problematiche che noi conosciamo per gran parte ma che ci possono essere messe in evidenza dai fruitori dai cittadini che sono il nostro scopo ultimo diciamo noi facciamo i consiglieri comunali i sindaci gli assessori per sviluppare in un servizio pubblico al servizio della cittadinanza e restano in presidio di protesta i ex parcheggiatori delle copp che si occupavano dei parcheggi chiusi ad Avellino non ce ne andiamo di qui finché non avremo risposte dall'amministrazione intanto pregano anche la bate di Montevergine ancora in presidio davanti al comune di Avellino i parcheggiatori delle ex cooperative sociali nonostante il maltempo la pioggia e il freddo anche questa mattina una ventina di loro lanciano un nuovo appello per un posto di lavoro e vabbè sono tre giorni che stiamo continui qua che stiamo facendo il presidio per sperare che qualcuno ci dia qualche notizia di noi per sapere almeno che cosa hanno deciso per adesso nessuna risposta qualcuno parla sui giornali però con noi nessuno parla con noi nessuno del consiglio comunale né assessori di maggioranza né consiglieri di minoranza per adesso nessuno si fa sentire e poi l'appello rivolto anche alle altre istituzioni al prefetto e all'abbate di Montevergine chiedo anche se qualcuno delle altre istituzioni ci potrebbero aiutare come il prefetto domani vediamo più tardi di andare pure dal palazzo Vescovilli per parlare col Vescovilli per vederci di darci una mano arrivi e rimanga a Montevergine dall'abbate l'altra sera il collega quasi è sentito male è dovuto venire dall'ambulanza siamo qua proprio pacificamente come vedi non è che stiamo con cartelli siamo qua sono 24 anni che faccio questo lavoro un'età che ho chi mi prende qua tutti noi tutti i colleghi da 15-20 anni 24 anni siamo questo lavoro qua abbiamo fatto ancora sangue sulle strade salernitane ieri un motociclista ha perso il controllo del mezzo alla rotatoria Campolongo di Eboli adesso la procura apre un'indagine la strada era senza pubblica illuminazione da mesi uno schianto che non gli ha lasciato scampo è morto così Mauro Manzo 49enne originario di Cercola che ieri ha perso la vita in un incidente stradale in località Campolongo del comune di Eboli l'uomo viaggiava a bordo della sua moto una Kawasaki Z750 che aveva acquistato da pochi giorni in direzione Salerno ha urtato uno dei cordoli della rotatoria andandosi a schiantare prima contro la segnaletica stradale e poi sull'asfalto per lui non c'è stato nulla da fare a bordo c'era un altro uomo un 33enne di Sant'Anastasia ha ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Eboli sul posto i carabinieri della locale stazione e della compagnia e gli agenti della polizia municipale questa mattina i segni del drammatico impatto erano ancora ben visibili sull'asfalto non è la prima volta che quel tratto di strada è teatro di incidenti mortali nel mirino in particolare la scarsissima illuminazione della rotonda snodo cruciale del traffico tra Campolongo e Santa Cecilia la procura di Salerno ha aperto un fascicolo mentre la moto semidistrutta è stata sequestrata le indagini serviranno anche a chiarire se ci sono responsabilità dietro la morte del centauro napoletano dopo gli ultimi incidenti dei mesi scorsi infatti la pubblica illuminazione fuori uso e dunque la rotatoria è al buio e difficilmente visibile dai beni confiscati alla camorra un'opportunità per i giovani che rischiano di dover andare via questa è la proposta di Libera Benevento Michele Martino l'economia sociale come antidodo a quella criminale il senso di facciamo un pacco alla camorra il dono natalizio di prodotti agroalimentari che promuove una crescita civile del territorio un progetto culturale del comitato Don Peppe Diana in collaborazione con Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie ed attuato dal consorzio NCO nuova cooperazione organizzata presentato a Benevento con storie e testimonianze vogliamo anche coniugare la bellezza delle storie del nostro territorio non a caso l'abbiamo voluta intitolare questa serata proviamoci non rassegniamoci l'obiettivo finale è quello che dobbiamo cercare di salutare il meno possibile i giovani che lasciano il nostro territorio e il riutilizzo dei beni confiscati che ci sono anche nella nostra città e nella nostra provincia devono essere un'opportunità anche per i giovani per dire proviamoci non rassegniamoci nel paniere realizzato in cartone e riciclato ogni prodotto racconta la storia di una cooperativa sociale del territorio impegnata nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati confetture legumi sottoli barrette di cioccolato sono espressione concreta e tangibile della filiera di agricoltura sociale sana biologica etica ed inclusiva che si sta sperimentando a partire dai beni confiscati ed ora una bella storia di amore e di solidarietà in vista del Natale ce la racconta Gianni Vigoroso usano materiali poveri cartone segatura farina mischiata con olio e colla mostrandone le loro opere amore e creatività disabili dalle mani d'oro li avevamo definiti nel Natale del 2015 a distanza di due anni siamo ritornati nella residenza sanitaria assistenziale Centro Padre Pio di Grotta Minarda per far visita ai circa 100 ospiti tra anziani adulti di cui 24 affetti da disabilità neurologica ed altre patologie gravi la cosa fondamentale che guida tutti i nostri interventi è il recupero delle abilità ovviamente nel periodo natalizio voi vedete qui il presevo alle nostre spalle fatto dai nostri pazienti con i nostri operatori che come primo obiettivo oltre al gioco ha quello di recuperare le abilità dei pazienti quindi è fondamentale avere iniziative di questa natura sotto forma di gioco ma che permettano ai pazienti di acquisire abilità manuali oltre che cognitive un progetto di terapia occupazionale che ha lo scopo di migliorare la manipolazione attraverso l'ascolto la comunicazione il dialogo il gioco e i lavori manuali un'attività meticolosa che si articola in varie fasi durante l'anno sia all'interno che all'esterno della struttura dall'artigianato alla realizzazione dell'orto biologico ogni cosa viene svolta con amore ingegno e passione e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale a seguire il meteo poi c'è il TG Sport con il collega Carmine Guaia Grazie a tutti Grazie a tutti